Hola guappos e benvenuti nel nostro salotto! Cambio di scenario, non ve l'aspettavate? Il film di cui vi voglio parlare questa settimana si intitola The Necessary Death of Charlie Countryman tradotto in italiano in Charlie Countryman deve morire, diretto da Frederick Bond nel 2013 con protagonisti Shia LaBeouf, Mads Mikkelsen, non lo scelto a caso, e Evan Rachel Wood è la storia di questo ragazzo che alla morte della madre ha una visione di lei che gli dice di andare in Romania quindi lui ci va e in aereo incontra un tipo bizzarro che gli muore addosso l'ultima cosa che gli dice questo uomo è di trasmettere un messaggio a sua figlia Gabi e quando Charlie la incontra rimane completamente affascinato da lei, decide di seguirla e se ne innamora il problema è che lei è sposata con Mads Mikkelsen che è il peggio mafioso, violento, psicopatico della Romania è di una delicatezza splendida nonostante sia violentissimo e ci siano scene piuttosto oscene c'è un fantastico cameo di Rupert Grint, meglio noto come Ron Weasley in questo film interpreta un ragazzo che vuole diventare un porno star appunto nonostante tratti dei temi piuttosto forti riesce comunque ad essere sempre delicato a questa colonna sonora che è una carezza Gabi è una musicista e il suo rapporto con il personaggio di Mads Mikkelsen è iniziato grazie alla musica e appunto questo elemento ricorrente in tutto il film e crea questa linea rossa ma non rosso sangue nonostante parli di morte costantemente questo film quel bel rosso delle fragole che ti fa venire voglia di mangiarne ancora 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 perché ti rendono felice la serie che vi voglio consigliare questa settimana è Hemlock Grove un originale Netflix perché finché Netflix non mi sponsorizza io non la smetto di consigliare le serie Netflix no scherzo lo farei comunque perché le trovo belle i protagonisti sono un Lou Manaro e un Upir modo figo di dire vampiro che ancora non sa di essere un vampiro il vampiro è un tizio strarico famiglia di enorme successo che hanno una società che fa degli esperimenti inquietantissimi perché dico inquieto e invece il Lou Manaro di discendenza romena vive in un camper con sua madre spacciano droga figo, figo io adoro il personaggio del Lou Manaro è tipo... cuccia io vado matta per le storie che riescono ad intrecciare le vite di tantissime persone molto diverse eppure riescono a farlo in modo naturale ed Hemlock Grove ci riesce veramente bene il filo conduttore tra le vite dei vari personaggi è una serie di omicidi che sta avvenendo a Hemlock Grove diverse ragazze sono state trovate sbranate in pari e parti della città la detective che sta indagando che è conscia dell'esistenza dei mostri per motivi personali sta molto sul fiato sul collo di Peter il Lou Manaro che naturalmente non è il colpevole perché è il dannato protagonista è molto difficile sorprendermi e sì, avevo capito benissimo chi è il colpevole ma comunque mi ha dato un sacco gusto guardarlo il produttore di questa serie è Eli Roth quello di Hostel per intenderci Green Inferno insomma tutti i film basati su gente che va in vacanza e finisce male e quindi ci sono delle scene potentissime di stupro di trasformazione da Omana a Lupo a Mannaro che sono di un bello pazzesco sono proprio forti sono di un bello straordinario perché nonostante siano violentissime sono dirette in maniera eccellente non fa schifo in senso cattivo fa impressione in senso buono quindi è M.Lock Grove yeah bellissimo poi si vede in un giorno perché tanto la prima stagione sono dieci episodi la seconda stagione non mi è piaciuta tantissimo e la terza la devo ancora vedere quindi magari vi aggiornerò sulla terza stagione il libro che vi voglio consigliare si intitola The Night Circus ed è scritto da Erin Morgenstern non so parlare Morgenstern stella del mattino come ho già detto io adoro le storie che intrecciano tantissime vite Night Circus lo fa in maniera egregia e un altro elemento che amo di questo libro è la magia io sono patita con i maghi le streghe i protagonisti di questo libro sono due maghi i cui genitori il padre di lei e il padre adottivo di lui li vogliono far competere in una gara pericolosissima ma loro non hanno idea di chi sia il loro opponente fino a un certo punto e nel momento in cui lo scoprono naturalmente si innamorano perché mamma mia cioè mi sembra chiaro e logico che non possa andare bene una cosa del genere altrimenti non ci sarebbe un libro scusate il cambio di inquadratura ma naturalmente mi era finita la memoria della videocamera vi stavo dicendo di Night Circus che è bellissimo perché ha tutti gli elementi che io amo in un libro magia il circo sono affascinata veramente dal circo è ambientato alla fine dell'ottocento e all'inizio del novecento quindi ci sono tantissime descrizioni di balli, banchetti, vestiti stupendi viaggi in treno mi sento felice solo a parlarne il problema di questo dannato libro è che mi ha fatto provare dei sentimenti e io lo odio ok? è difficilissimo stupirmi sono totalmente desensibilizzata da anni e anni e anni di lettura e film quindi per un film magari è un po' più semplice colpirmi perché è un mezzo più immediato per un libro è veramente veramente un'impresa tosta ci sono riusciti solo Harry Potter 7 perché muoiono tutti nei doni della morte ok? le nebbie di Avalon perché muoiono tutti anche le nebbie di Avalon e The Night Circus ok? c'è una scena in cui tu vieni a sapere che un personaggio è morto così a caso è tipo stavo leggendo tranquillissima si ok loro stanno solo parlando parlano parlano è morto come è morto? si la scena è stata più o meno questa accuratezza all'87% mi sembra di vivere uno di quei sogni che fai quando sei sul divano e ti assopisci fai dei pensieri che vanno ovunque e da nessuna parte allo stesso tempo ed è come una canzone di cui sai il motivo ma non le parole è scritto in modo molto veloce come una favola come quando devi raccontare una storia dando tutti i dettagli ma devi farlo prima di addormentarti quindi episodio flash over ci vediamo la prossima volta ricordatevi di farmi sapere cosa ne pensate di mandarmi un salutino un commentino di farvi sentire perché io adoro i vostri commenti veramente mi riempiono il cuore ogni volta che mi scrivete sono sempre così contenta e ricordatevi sempre che il cioccolato è la soluzione ad ogni malessere tranne l'allergia al cioccolato ciao